Mr. Giarusso, could you please press the speak button? Può premere il tasto speak, può intervenire ora. Ok, colleghi... Sorry, before you start, could you please... Dovrebbe attivare la sua telecamera? It's not possible because I have an iPhone, so I can only speak. Ok, sorry. Colleghi, il Prosecco è patrimonio dell'UNESCO, è il vino frizzante che vende più bottiglie al mondo. Non ci sarà però l'interpretazione del suo intervento se non attiva la telecamera, quindi dovrebbe parlare in inglese. Ok, I try it, I'm not perfect, my English is not perfect. Colleghi, Prosecco è patrimonio dell'UNESCO, no io non riesco a fare l'intervento, chiedo scusa, non riesco a fare l'intervento in inglese perché l'ho scritto in italiano, non riesco a tradurre in maniera simultanea. Vi chiedo scusa, avrei dovuto scriverlo in inglese? Non mi è stato detto che avrei dovuto farlo in inglese, ma che potevo farlo in italiano. Quindi potrei farlo in italiano, se è possibile. Purtroppo queste sono le regole, senza telecamera non può essere interpretato. Quindi saremmo arrivati alla fine dell'elenco degli interventi.